Buona giornata a tutti, parliamo ancora di assegno di inclusione ADI, quella che ha preso definitivamente il posto del reddito di cittadinanza. Vediamo insieme chi sono gli esonerati dall'obbligo di prendere parte ai progetti di inserimento lavorativo. Sono esonerati dall'obbligo di prendere parte ai progetti di inserimento lavorativo i beneficiari dell'assegno di inclusione ADI, titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni. Sono esonerati i componenti con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999 numero 68 fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato. Sono esclusi i componenti affetti da patologie oncologiche, componenti con carichi di cura valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza. Sono esclusi i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza con o senza figli. Prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Facciamo qualche esempio. Andiamo al primo esempio. Nucleo composto da padre, madre e un figlio di 2 anni. In questo caso il padre, ipotizziamo sia il richiedente, dovrà partecipare ai percorsi di inserimento lavorativo. La madre però, in quanto identificata come caregiver del piccolo di 2 anni, non è obbligata anche se può parteciparvi su base volontaria. Esempio numero 2. Nucleo composto da padre, madre e un bambino di 9 anni. In questo caso entrambi i genitori sono tenuti a partecipare tanto ai percorsi di inclusione sociale quanto quella lavorativa, poiché nessuno di loro ha carichi di cura avendo un figlio di 9 anni. Passiamo ad un ulteriore esempio. Facciamo l'esempio numero 3. Nucleo familiare composto da padre e madre, figlio disabile di 13 anni. In tal caso uno dei genitori, chi dei due si identifichi come caregiver, è esonerato dalla partecipazione ai percorsi di inserimento lavorativo, esattamente come è accaduto nel primo esempio. Tutti i soggetti che non rientrano nelle scale di equivalenza non sono obbligati a nessuna delle condizioni di cui sopra e possono semmai richiedere il supporto per la formazione, sarebbe SFL.